Non vi è alcuna intenzione di privatizzare, noi stiamo semplicemente purtroppo prendendo atto di una carenza di programmazione che vi è stata negli anni. È noto che la falda acquifera nel territorio marsalese si sta notevolmente abbassando, vi è da tempo, a quanto pare, da parecchio tempo un concentrato di nitrati che non rendono potabile l'acqua di quel comprensorio, vedi anche Petrosino, Mazzara, sono stati adottati dei provvedimenti proprio in quella direzione per il divieto dell'uso dell'acqua potabile, cosa che ho dovuto fare anch'io. Adesso stiamo attivando procedure per la miscelazione dei vari punti di distribuzione delle nostre risorse idiche per rendere potabile l'acqua. Al momento non ci siamo riusciti perché chiaramente vanno fatti dei controlli, dei prelievi periodici all'interno e all'esterno. Prendiamo atto che vi è una vera e propria crisi idrica nel nostro territorio. Non te l'aspettavo di dover badare a questo. Devo dire che nel mio programma elettorale avevo proprio ipotizzato un collegamento con la rete di Montescuro, Garcia, perché noi siamo come città di Marsala isolati. I miei predecessori, il sindaco Carini in particolare, aveva ipotizzato addirittura di fare un dissalatore proprio perché è noto che siamo isolati dal resto delle fonti idriche principali siciliane. Per cui la cosa più importante è quella di collegarci alla rete più importante. Nel programma avevamo proprio inserito questo collegamento con Montescuro a cui si fa riferimento oggi. Attraverso un programma di Sicilia Acque a cui abbiamo concorso, abbiamo sollecitato, ci siamo incontrati. Assieme ai nostri collaboratori e tecnici abbiamo sollecitato intervento in questa direzione perché l'unica soluzione al momento, tranne se non si ipotizzasse il ricorso a un dissalatore, è l'unica soluzione che ci può consentire di poter assicurare questo bene essenziale.